Fumo. Altro consumo, la stretta va nella giusta direzione. Da ascolta la notizia. Come altro consumo, da tempo sosteniamo la necessità di una stretta sull'utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato. Per questo, crediamo che la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci vada nella giusta direzione. Serve però un impegno di tutto il governo, che in questo momento non è ancora chiaro. Lo ha dichiarato Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di altro consumo. Si tratta di una tematica su cui lavoriamo da tempo anche grazie alla nostra petizione e alla collaborazione con il Movimento Contro il Fumo Tobacco Endgame. Infatti i nuovi prodotti, come quelli a tabacco riscaldato e sigarette elettroniche, sono sempre più diffusi, ma ad oggi non si sa se il loro uso prolungato porterà a un minor danno per la salute rispetto al fumo tradizionale. Nonostante ciò, attualmente, un regime fiscale per questi prodotti prevede una cisa ridotta, abbiamo stimato che tale tassazione di favore ha regalato alle industrie che producono tabacco riscaldato circa un miliardo di euro e a quelle che producono sigarette elettroniche 200 milioni di euro, di cui lo Stato italiano si è privato e che potrebbero essere meglio utilizzati per altre voci di spesa, come ad esempio la ricerca, l'educazione e la prevenzione, ha aggiunto Cavallo.